Anto Giovanni, vittoria meritata, condita, si fa per dire, da un calcio di rigore sbagliato da Ruggeri. Una vittoria importantissima, è arrivata allo scadere che ci dà ancora più valore a quello che sono i tre punti. Era importantissimo partire bene in casa e penso l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. I rigori non capita a sbagliarli, ma il capitano è una persona che ci dà tantissimo, esperta, il valore aggiunto di questa squadra. Quindi non sono d'accordo, non abbiamo risentito perché comunque abbiamo continuato a fare il nostro gioco, anzi abbiamo avuto e ha avuto lui altre occasioni, poi fortunatamente non ha segnato lui, ma ha segnato qualcun altro. Ad un certo punto sembrava quasi che la porta del Sora fosse stregata. Sì, fino all'ultimo minuto sì, fino al gol di Jaco sembrava stregata, ecco poi basta un guizzo e fortunatamente siamo riusciti a bucarla. E ecco niente, era quello che ci interessava e quello che volevamo a tutti i costi. Una vittoria che dà classifica e morale, però ti chiedo cosa è mancato al Vasto Girardi per sbloccare la partita prima? Forse è mancato un po' di lucidità, abbiamo avuto un po' di frenesia soprattutto nel primo tempo perché volevamo portare a casa i tre punti, volevamo far gol e quindi magari avevamo un po' troppa, come si suol dire, foca agonistica e poca lucidità. Però poi alla fine l'abbiamo portato a casa e non è importante come e a che minuto l'importante è aver conquistato i tre punti. Grazie.